L'educazione 06 non si ferma, soprattutto adesso che l'epidemia di Covid ha chiuso le scuole. Stiamo parlando della nuova piattaforma web messa a disposizione delle famiglie dalla Regione Toscana per suggerire e proporre iniziative e attività ai più piccoli, coltivando e promuovendo la continuità educativa e le relazioni con i docenti. I materiali sono molto diversi, canzoni, tutorial, filastrocche, giochi con la pasta di sale, concertini. Materiali che servono agli educatori, ai coordinatori pedagogici per mantenere, seppure a distanza, i rapporti con le bambine e con i bambini, per mantenere i riti di quotidianità che di solito i bambini trovano a scuola e anche materiali importanti per la formazione a distanza e la valorizzazione di esperienze messe in campo da tante scuole di infanzia e da tanti nidi della nostra Regione. Sulla piattaforma ci sono anche due guide galattiche per consentire ai bambini di viaggiare nel tempo e nello spazio. Anche in questo periodo così difficile non ci dimentichiamo dei nostri cittadini e delle nostre cittadine più piccoli e quindi potete trovare questo ausilio, credo molto importante, almeno dal riscontro che queste pagine hanno come numero di lettori, sul nostro sito di Regione Toscana.